ciao a tutti in un precedente filmato avevo montato le pedaline della tnt sulla corona dei pedali e un iscritto mi ha detto in un commento ha ragione ma c'è il rischio che gira perché la corona dei pedali è fatta per girare e io ho detto si troverò il sistema per bloccarle in modo che le pedaline non girano che stiano belle fisse allora cosa ho fatto ho preso una fascetta per i tubi idraulici vi faccio vedere questi qui che vanno nel muro che in mezzo ci va il tubo qua un filetto 8 ho preso un perno adesso vi faccio vedere come questo qui un bullone questo qui lo infilate da dietro nel foro dove c'è dove c'entrebbe la il ten di catena ho messo poi un dado davanti e poi evitato questo poi qua ho messo un dado m6 con la chiave da 10 con la rondella dietro il dado in modo che fermo la corona così la corona non ruota più vedete così noi possiamo appoggiare i nostri piedi tranquilli e la corona non ruota e così abbiamo risolto anche questo problema che giustamente l'iscritto al canale mi ha detto ma io poi il rischio che di piedi scivolano invece così bello fisso e poi mettendo la scocca sopra non si vede quindi va bene così io ho recuperato questo per non stare a sbattere a fare una staffa diversa recuperato questo l'ho deformato un po' la staffa in modo che l'allungassi un po' da arrivare lì perché sennò era corta e così ho bloccato la rotazione della corona che è nata per girare ciao a tutti se ne l'avete fatto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ci saranno prossimi filmati interessanti devo cambiare poi ammortizzatori sistemare davanti la forcella mettere una campana in c40 dietro della frizione fare altre modifiche che man mano andremo a fare ciao a tutti